E' facile! Ehi, i raspi si muovono! Perché questi raspi non ci lasciano passare? Io sento olio di festa in arrivo, amici! Presto venite, amici Umi! Rispondete, amici Umi! Io sono Geo! E io sono Millie! Team, a rapporto! Ok, Team! Occhiali! Presi! Distintivi! Presi! Radio! Presa! Da cosa siamo vestiti? Siamo vestiti da poliziotti, sì! Noi tre siamo i poliziotti Umi!